ciao a tutti fratelli bianconeri è brutto stare in sala io meno male che questa sosta sta per finire e ritorniamo in campo con il pescara anche se ancora non hanno recuperato di balle e piazza e la coperta è ancora curta beh questa sosta perlomeno mi è servita per realizzare alcuni ritratti che da tempo avrei dovuto fare non sono riuscita a realizzare per tempo come questo qua a balter che me l'ha richiesto un po di tempo fa e poi ho realizzato questo per camillo questo è solo per dirvi che comunque vi stimo e come a marcello e come ho fatto in precedenza anche con franco per dirvi che comunque mi tenete compagno il pomeriggio vi ringrazio così ecco e in questi giorni mi è capitata anche una commissione molto particolare una commissione direttamente dal belgio un tifosissimo viventino ha scelto me per realizzare un poster su tutto alla juve e oggi voglio mostrarvelo in essenza appunto della partita volevo mostrarvi questo ritratto poster che ho fatto che ora si trova in belgio e vi lascio così salutandovi al prossimo video post pescara fino alla fine forza juventus se miglia degli eroi abbiamo il cuore a strisce portaci dove vuoi verso le tue conquiste grazie a tutti